Ciao a tutti, come tornare a fidarsi dopo un tradimento che ti ha spezzato il cuore? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, i tradimenti fanno male, in amore i tradimenti fanno male e purtroppo generano un meccanismo per cui noi esseri umani siamo soggetti a questo meccanismo che è il meccanismo della generalizzazione e dei meccanismi di difesa. Cioè, come dire, meccanismo di difesa cosa vuol dire? Se sono andato in centro con l'auto, ho preso un multone micidiale, una delle possibili soluzioni è tengo l'auto in garage e quindi, come dire, non prendo più multe. Allo stesso modo però non utilizzo più l'auto, quindi non ho più un servizio. In amore succede alle volte cose abbastanza simili. Ho preso una fregatura grande e quindi, perché sono stato tradito, tradita da una persona a cui ho dato la mia fiducia e quindi, bene, la soluzione è non mi fido più di nessuno e quindi non mi innamoro più di nessuno perché un rapporto d'amore deve basarsi sulla fiducia. Come dire, se non c'è fiducia non ci può essere amore, non puoi essere diffidente della persona che ha. Come dire, se vedi il nemico nell'amico e allora questo è proprio l'antitesi dell'amore. E purtroppo questo meccanismo di difesa funziona. Funziona nel senso che si attiva, in realtà non funziona bene, diventa un meccanismo di offesa perché ti impedisce poi di vivere un qualcosa che tutti gli esseri umani dovrebbero, vorrebbero e potrebbero vivere. E poi c'è un altro fatto, c'è un altro meccanismo che va ancora nella stessa direzione che è il meccanismo della generalizzazione. Supponi una ragazza molto innamorata, ad esempio, che venga tradita nelle sue aspettative. Perché è il tradimento, non ho detto che sia un tradimento fisico in generale, è un tradimento delle aspettative. Comunque, tornando all'esempio, supponi questa ragazza molto innamorata che sta per sposarsi. Bene, viene piantata sull'altare. Cioè lo sposo proprio non si presenta neanche. Beh, questo è uno shock emotivo molto forte. E allora, quando noi viviamo uno shock emotivo molto forte, una sofferenza emotiva molto forte, tendiamo a mettere in atto un meccanismo che si chiama generalizzazione. Generalizzo. Uno uguale a tutti. Uno nessuno centomila, come diceva Pirandello. Uno uguale a tutti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ad esempio, tu avevi, come dire, ti ha tradito, cioè non si è presentato Mario Rossi al matrimonio e fai un'equazione Mario Rossi uguale a tutti gli uomini. E se tutti gli uomini sono uguali e sono come Mario Rossi, nessuno vale la pena. E allora è ovvio che uno dice se nessuno vale la pena, basta, non ne voglio sapere di nessuno. E quindi non mi fiderò mai più di nessuno. Ecco, questo è quello che dobbiamo evitare. Perché diventa un meccanismo di offesa. Quindi evitare generalizzazioni e meccanismi di difesa che poi, diciamo, vanno a risolvere il problema negando la soluzione, poi di fatto, no? La soluzione quale sarebbe? Beh, intanto ragionare un po' diversamente. Con Mario Rossi è andata male, col prossimo andrà meglio. Devo solo prestare più attenzione e volutare meglio il prossimo. Il che non significa che non mi fido o non mi fiderò neanche del prossimo o dell'altra persona che viene. Ma semplicemente che metterò in atto dei meccanismi di controllo maggiore, di controllo migliore, diciamo così. E nelle relazioni sentimentali devo, come dire, vedere cosa fa l'altra persona di concreto. Studio la sua comunicazione non verbale, perché noi non comunichiamo solo verbalmente. Prima che le cose non funzionino da un punto di vista razionale, mi dà dei segnali non verbali. Quindi se io imparo a leggere i segnali non verbali, potrò avere delle risposte. Se ogni volta che mi vede si tocca il naso, o raschio, o vè indietro, e beh, oppure se io parlo, parlando di tradimento, lui si tocca le labbra e vuol dire che lo gradisce questo tradimento. Bisogna vedere se gradisce averlo, subirlo o farlo. Comunque, quindi ci sono diverse questioni, diverse possibilità che noi dobbiamo valutare, che noi dobbiamo prendere in considerazione. Ma la soluzione peggiore è quella di credere che, diciamo, che tutti siano uguali e che quindi nessuno valga la pena e che quindi non mi devo fidare di nessuno. Le persone sono tutte diverse. Ogni essere umano è unico e irripetibile, essenzialmente. Quindi certo è che se noi non mettiamo in atto nessun meccanismo di difesa, ci lasciamo andare completamente, però non dobbiamo neanche tapparci le orecchie. Insomma, in amore dobbiamo imparare a fare come fece Ulisse con le sirene. Questo è importante. Ulisse con le sirene si è fidato di sentire il canto, ma si è fatto le gare, ha messo dei meccanismi di difesa. Ai suoi marinai ha fatto chiudere le orecchie, quindi non si sono vissuti il pathos dell'amore. Perché è bello viversi comunque, sentire il pathos dell'amore, ma non dobbiamo neanche finire negli scogli. E non dobbiamo neanche tapparci le orecchie che vorrebbe dire non riuscire a vivere questo pathos dell'amore. E allora la soluzione è solo una. La soluzione, inesorabilmente, inevitabilmente, è sempre solo una. E questa soluzione qual è? Beh, è molto semplice. La soluzione è proprio quella di fare una cosa molto importante, vedere cosa fanno le altre persone, mettere delle esche, mettere delle cose, il che non significa non fidarsi. Io mi fido di te, ma gradualmente, piano piano. E poi dobbiamo tenere presente che le cose possono anche cambiare. Cioè, il fatto che uno possa prendere una cantonata, beh, ci sta. Ma essere pessimisti non funziona. A quel punto lì è meglio essere ottimisti, perché, come dire, tanto le fregature nella vita in qualche modo potranno sempre arrivare. Soltanto che la differenza è che un pessimista soffre anche tra una fregatura e l'altra. L'ottimista, almeno tra una fregatura e l'altra, prova felicità. Quindi, però, noi dobbiamo essere, come dire, più malleabili. Vedere le cose, dare, diciamo, il giusto significato ai significanti. Se una persona, alla fine, ci lascia, dobbiamo pensare, di fatto, poverina, non sa quello che si è persa. Questo è il pensiero, il dominus, che deve essere comunque nella nostra mente. Non dobbiamo svalorizzarci. È l'altra persona che, eventualmente, come dire, si perderà qualcosa. Dobbiamo fortemente coltivare la nostra autostima. Questo è comunque sempre il punto di partenza per poter raggiungere una situazione di benessere, anche nelle relazioni con gli altri. Se non amiamo noi stessi, nessuno ci amerà. Questo è inevitabile. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramaschi, iscriviti al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.